Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di The Bureau XCOM The Classified. Siamo all'ultima missione che si chiama Nella nave madre Cieli di Fuoco. Distruggi Origin, Origin non è morto, il capo degli esterni è riuscito a sopravvivere all'interno della rete di mosaico e sta bombardando il nostro pianeta da un'enorme corazzata. Infiltratevi in questa fortezza volante ed eliminate Origin per sempre. Siamo al controllo per lancio, come potete vedere i miei agenti sono questi, non è cambiato molto dall'ultima missione a parte il fatto che non c'è più Carter ma adesso c'è il Dottor Weir, potevamo scegliere tra il Dottor Weir, Folk e l'agente Weaver. Ho deciso di andare per Weir e iniziamo pure la missione. Tutti pronti? Andiamo! Notevole, l'etereo permetteva a Carter di comunicare così con la sua squadra. Forse è questa l'abilità che ha ispirato la creazione di mosaico. Dovevamo premere il tastino? Vai! Dottor Weir, Carter continua ad agitarsi. Dice che l'etereo è un alieno che vuole distruggere l'umanità. E tu gli credi? Quell'uomo è un ottimo agente e deve ammettere che riguardo all'alieno ha ragione. Se avremmo successo qui, ora, poi mi concentrerò anima e corpo sulla cura per i sonnamboli. Mi dedicherò solo a quello. Lei crede veramente che si possa trovare una cura? Perché mio figlio... Sì, è possibile. Non so quanto ci vorrà, ma credo di potercela fare. Sono con lei, dottore. Fino alla fine. Siamo cinque agenti in questo momento perché ci sono anche Folk e Angela oltre a Max e Jolly. Dove andate? Andate di là? Non avrei mai immaginato di vedere la terra ridotta così. Guardate la terra là in fondo. Con un sacco di macello. Bello sto visuale. Ricevuto. Il prigioniero è l'unica priorità. Dobbiamo catturare il prigioniero. Che sarei io in questo momento, Weir? Avanzare. Myron, nell'ala di schieramento. Angela, raggiungi l'ala di produzione. Contattatemi quando siete sul posto. Ricevuto. Vado. Ok, quindi loro due sono da un'altra parte e io vado nella parte centrale invece con i miei due agenti. Vediamo cosa ci aspetta qua dietro. Parte la camera di personalizzazione. Vediamo cosa ci capita qua. Vediamo il giro magari un po' più largo per vedere se c'è qualcosa di utile. Recuperate il prigioniero. Il prigioniero. Il prigioniero. Alla faccia Origin, quanto parli. se lo raccontassimo in giro, non ci crederebbe. Cazzo! Cazzo! Se lo raccontassimo in giro, non ci crederebbero. Credi davvero che ne usciremo vivi? Tu no? No. Signori, vi prego. No. Chi è che ha detto no? Tra i due. Jolly o Max? Che disagio! Forse è Max che probabilmente ha detto che è disagio. BAM! Il solito punto di checkpoint in cui cadiamo perché le scale non sono apprezzate in questo gioco. Pa pa pa. Ciao! Fatto il giro. Eh, sì. Dove è finito? Ah, è di là. Ok. Ne sono altri? No. Eh, proseguiamo. Sono alla porta di sicurezza. Provo a violarla. Come sta andando, Angela? Ho visto pochi nemici. Sono occupati con ciò che succede di sotto. Sono vicina al bersaglio. Bene. Sembra che stia proseguendo bene questa azione. Devono ancora complicarsi le cose. Andare di là? Sì. Guardate, alieni. Nemici intassati! Eh, se io sollevassi questo... Merda! Uoah! Dove sono? Perché sei andato là davanti? Venite qua. Vi muovete a caso. Sì, come andate? Qui è Barnes. Ho brutte notizie. Carter è fuggito. Sta venendo da voi. Ma no! Credevo che gli agenti lo sorvegliassero. C'è un po' di lag in questo momento del gioco proprio. Che crede che l'abbia liberato? Sembri ferito. Va tutto bene? Mi sono beccato un proiettile. Santo cielo! Stai bene, tenente? Grazie per l'interesse, dottore. Ma sopravvivrò. Mi ha preso alla gamba. Meno male. Attenti. Sta cercando l'Ethereo. Beh, non l'avrà. Non ti muovere, Barnes. Ci pensiamo noi. Siamo qua? Qua c'è un portale di Van. O qualcosa del genere. E cosa vorresti che facessi, Carter? Ucciderli. Tutti gli esterni, tutti i sonnamboli. Chiunque e qualunque cosa sia stata compromessa. È genocidio. Non posso farlo. Ok. Proseguiamo di qua. Qua ci sono anche delle granate. Che dovrei usare un po' più spesso. Però con queste armi potrebbero anche andar bene. Scirio di precisione. Manca poco alla barriera. Eccoci qua. Carter, dai! Dovemo combattere. Via! Ok, allora. Direi di bombardare quest'area. Quello centrale. Fantasma d'elite. Facciamo controllo mentale di qua. Facciamo sollevare questo. E facciamo un campo di plasma qua. Preparo un campo di plasma. Brone alleato schierato. Blob liberato. Pronti? Risparo! Un aiuto te lo dico! Stai ricaricando! Stai ricaricando! Guardiamoci! Respingeteli! Hanno bloccato quel punto! Brone! Guardo degli armi! Fammi un diversivo qua dietro. Ci serve un diversivo! Diversivo proprio! È confronto mentale! È quasi mappo! Destruggiamo i droni. Ehi! Aiuto! Siamo troppo esponti! Siamo troppo esponti! Servono ordini! Ne sta creando degli altri! I droni sono decisamente utili! Ok. Andiamo di ricaricare. Come siamo messi? Allora vedo un fantasma delict di qua. Un altro e un altro ancora. Volante schiavi. Ciao ciao! Tu fammi un campo di... No fammi un... Tu fammi un colpo critico. Qua. Vedete di centrarlo! Prendo la mira! Disculi sono andati! Colpiamolo ora! Muoviamoci! Chioa, mira... Portata... Agente, attira la sua attenzione! Uscite e affrontatemi, bastardi! Mi avvicinano! Camminatore in arrivo! Uh, c'è anche un camminatore! Diversivo. Qui. Estraete il nemico! Nient'altro mi metto qui. Allora, Silacoid che va benissimo contro i Sectopod. Vai! Tu fai questo. Qui. Tu fammi un colpo critico. C'è un coso volante? No, allora becca all'esterno. Siamo quasi! I droni sono decisamente utili. Deccati questo! La ricarica per bene, eh? Hanno ucciso il nostro blocco! Maledizione, suoni! No, ok. Solleviamolo. Oppure nell'aria! Chiamo un drone! Cura a tutti. Campo di plasma più avanti possibile. Genera un campo di plasma! Campo di plasma attivo! Che male! Colpisci. Credete di centrarlo! Prenda la mia! Se l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok. Diversivo. Ci serve un diversivo! Diversivo pronto! Respingeteli, presto! Dai che manca quello! E ce l'abbiamo fatta! Recuperiamo un po' di armi. Ah, quindi dobbiamo scegliere da che parte andare? Salva Angela o Folk! Quindi por forza uno dei due? Eh, salviamo le donne? Andiamo a salvare la donna. Magari prima prendiamoci un po' di... Ok, ho le munizioni al massimo. Via! Andiamo a salvare... Sì, andiamo di qua. Contatto! Io vado! Fluttua nell'aria! Quello era l'ultimo. Eh, era da solo. Uh, c'è un lanciabombe qua. Prendo o non lo prendo? No, dai, teniamoci questo. Ok. A me non sembrava che ci volesse aiutare. Ci hanno visti? Go, go, go! Ok, è stato più facile. Stiamo arrivando, Angelo! Contatto! Ho fatto il prima possibile, Angelo. Appena in tempo, dottore. Ok, allora, solleviamo questo. Tu colpisci il drone. Vediamolo! Poi fammi un bombardamento qua in zona. Più avanti possibile. Tipo qua. Io intanto prendo... Possesso di questo. Questo qui. E questo qui. Crone alleato schierato. Respingeteli! Bombardamento in arrivo! Bomba a mano! Via! Uff! Ok. Curiamoci! Il drone è andato. Aia! Come sentete? Siamo notto stati gli scudi! Venite a rianimarmi, ragazzi. No. Forve aiuto! Di altra invieno! Ci penso io, comandate! Grazie! L'aiuto, te lo dico! Via! faccio che esplode qualcosa non abbiamo perso il controllo va tranquillo dai che mancano due ce ne sono tanti qua davanti drone avanzato vieni veloce 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 ok mancano quelli ma sono venuti avantissimo questi esterni io vado via ragazzi devo aspettare esatto mettiamo città qua ok c'è quel drone maldetto addio c'è fammi un campo di plasma ah questo è il mio cacchio che scemo che me lo segnava rosso qualcuno salvi jolly manca solo quello solleviamo mi manca uno cura mi puoi fare l'onda psichica qua spingeteli presto mi sto respingendo dove è l'abbiamo fatta ok ce l'abbiamo fatta mamma mia qua vediamo di recuperare che cos'è questo un lanciabombe forse è meglio prenderlo oh cacchio ok c'è un camminatore solleviamolo posso prendere il controllo di quello oh mio dio si a me da solo ok kaboom però non mi piace questa quindi teniamoci il cannone rotante ok direi di fare allora questo sul drone tu fammi un controllo mentale sull'altro drone se posso farlo drone alleato schierato blob alleato vola ora li sparo sono corrazzati ho avanzato aw ai 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 venite a reanimarmi ragazzi aiuto 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 muoio 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 Rianima, rianima, rianima Aiuto, 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 aiuto Quanta gente Questi droni sono decisamente utili Mamma mia che casino Tu puoi rianimare lui Penso io a lui, sono spazzato, sono a terra Vengo a salvarvi Occhio, 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 occhio Tornate indietro Mamma mia Angela pensa di darci la mano prima o poi? Ok, cuoriamoci Adesso ho anche lui contro la mente Vedete di centrarlo È che ce l'abbiamo così fatta Chi manca? Manca il comandante psionico che c'è lì E basta Vai Vola Uff Il ripetitore è laggiù Andiamo, prima che ne arrivino altri Forse avrei bisogno di proprio di... Ah no dai, non va neanche male Che lo facciamo? Bene Ho isolato la zona Dovremmo essere al sicuro Ora vado dal direttore Grazie Non credo che avrei potuto resistere a lungo Fulk, mi riceve? Serve aiuto Una dannata mano qui, maledizione Arrivo, tenga duro Vada, usi il teletrasporto Attendi il mio segnale Salva cartel nell'area di schieramento È Fulk Che non l'ho sentito Voglio il teletrasporto Ed eccoci qua Purtroppo nel momento in cui mi sono teletrasportato È crashato il gioco Quindi ho dovuto rifare un piccolo pezzo Ma eccoci qua C'è Carter là in fondo? Fuori uno E fuori due Teniamoci le munizioni al massimo Siamo pronti? Siamo pronti Oh cacchio Quanta gente c'è qua? Ehi Tanta Colpo che... Anzi facciamo subito il... Controllo mentale C'è un muton là in fondo Uso il controllo mentale Questo lo saliviamo Questo facciamo così Questo facciamo così Tu fai un colpo critico sull'altro cecchino Ok Adesso Cura Ha interrotto il controllo mentale? Tu puoi bombardare tipo la zona Dove c'è il muton Richiedi l'artiglieria Converte l'arrivo Abbiamo perso un drone Sono corazzati Eh sì Ok vedo due cecchini e un muton Tu puoi continuare a fare qua Vedete di centrarlo Mandiamo un campo al plasma? Genera un campo di plasma Ok E manca quello là Ok è rimasto solo il muton per adesso Onda psichica Posso buttarlo a terra? Respingeteli Indietro Ci serve un diversivo Diversivo pronto Sì Ah è qua sotto proprio Sta richiamando rinforzi Ok Sta richiamando rinforzi Allora È il caso di Ucciderlo il più velocemente possibile Campo di plasma ragazzo Campo di plasma Perfetto I vantaggi sono connettati Val Possiamo sollevarlo? Fluttuo nell'aria Blob liberato Casino su casino su casino Ah funziona l'onda psichica Aiuto Campo al plasma sempre qua sul muton Morto Jolly però è morto Andiamo a salvarlo Ce n'è un altro C'è un altro muton C'è qualcuno che ha quell'arma Au Qualcuno venga a salvarmi Grazie Ah perché c'è uno qua Ti sparo nel culo Comandante tecnologia Fammi un diversivo qua sotto Distraete il nemico Un aiuto gradito Dov'è la torretta Vedete di centrarlo Tutti sfondati Colpiamolo Ok Campo di plasma Ci arrivo fin là No Oddio due Due muton adesso Vabbè facciamo Attivare l'artiglieria Facciamo un diversivo Qua sotto Ci serve un diversivo Uh c'è un lacciabombe Possiamo sollevare Questo Tutto nell'aria Droni alleato schierato Globo alleato Vediamolo Ora l'impero Sono corazzati Gialli ti curo io Mi stanno avvicinando No 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 Fuggi 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 Cacchio Solleviamolo Solleviamolo Ho finito le armi Maledizione Però posso farti Controllo mentale Oh Sì 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 Su di te Mi farò cambiare idea Ok Combattete tra di voi Intanto io Credo di ristabilire Le mie armi Quasi stanno ancora legnando Uno è morto Curiamo tutti Abbiamo perso il controllo No laser Oh È rimasto quello là Fluttua nell'aria Vedete di centrarlo L'ho liberato Ancora 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 Facciamogli il campo di plasma Anche a lui Campo di plasma ragazzo Respingeteli Presto Campo di plasma attivo Li sto respingendo Vengo Chiamo un drone Andiamo a recuperare Un po' di munizione Finiamolo Vola Curiamoci Ora li sparo Gli studi sono in terra Corriamo Au Alcuno venga da mia mano Forza veloce 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 Ma io Avevo cliccato per ucciderlo Però vabbè Vedete di centrarlo Mi serve aiuto Non potete arrendermi Ah muoio All'ultimo Mamma mia Ma erano dannatamente troppo Ce la faremo Noo Folk Myron Che sfortuna amico Ho fatto ciò che potevo Amico mio So che mi capisci So che mi capisci Andiamo a curarci per bene Purtroppo il nostro Myron Non possiamo farci più niente Aspetterei qualche secondo Per ricaricare le mie Armi Eccetera eccetera Vabbè andiamo E siamo pronti Anche la seconda parte è fatta Torniamo alla barriera Pronti? Funziona La barriera sta cedendo Tra un attimo sarò nel nucleo Credo proprio Non colleterio almeno Non va da nessuna parte Non dirai sul serio Abbiamo origine a portata di mano Lei è altrettanto pericolosa Mi dispiace Ma è un danno collaterale Mi piace Vita o morte scelta? Lavora con me Aiutami contro Origin Combattimi dopo se puoi Ma per amor del cielo Non ci sto Dai Puoi ancora voltare le spalle a tutto questo? No Non posso farlo Non forzarmi Non voglio ucciderti Carter Nemmeno io voglio ucciderla Ma lo farò Voi andate pure Posso riportarlo sull'Avenger E impedirgli così di combinare altri danni Se è questo che volete Torna subito qui Lo uccidiamo? No dai Scusate Non sono mai stato tuo nemico William Barnes rispondi L'agente Weaver sta tornando alla tua posizione Preparati a riceverla Ricevuto Preparo l'Avenger per il lancio immediato Barnes L'agente Carter è con lei Non dovrebbe causare altri problemi E... e lei dottore? È il momento di farla finita Arriva Origin Posso insegnarti a domare il denne Avrai tutto il potere E le decisioni saranno soltanto tue Cambiamoci arma Mettiamoci magari il lanciabombe In questo giro Perché prevedo Un po' di casino Quindi al posto del Canone rotante Mettiamoci il lanciabombe Allora Possiamo dare qualcos'altro? No Va benissimo così Ok Buggato un'altra volta il gioco Sono qua Sei simile a come ero in un tempo Un uomo di ingegno Insieme potremo esplorare i confini dell'universo No Ho imparato dai tuoi errori Non seguirò il tuo cammino Ok Vediamo che cosa ci capita nella prossima stanza Speriamo niente di brutto Anche se Oh cacchio Stanza gigantesca E un sacco di gente Allora cominciamo con Mirate con attenzione Lo sollevo Io farei un controllo mentale No Spettiamo L'ho preso L'ho preso Mettare la invisibile Ok Chi altro abbiamo ancora? Avanti un altro Puoi fare un colpo critico? Grazie Oh e questi? Da dove sono soldati fuori? Vedete di centrarlo Tu fammi un bombardamento anche qua sotto Che c'è tanta gente Anch'io sono bravo a tirarti con uno Ok Curiamoci C'è una torretta Controllo mentale sulla torretta Si Onda psichica qua Preso Ehm Blob liberato Gli scudi sono andati Colpiamolo ora Ha interrotto il controllo mentale E io l'ho interrotto la sua vita Ah si tritrasportano è vero gli scout Chi arriva? Oddio Un sacco di droni Ehm Colpisci Ci sono ancora droni? Ah sta arrivando Sta arrivando D'altra gente Stiamo a troppo esposti Servono ordini Vedete di centrarlo Ora l'insparo Fugli amati Fluttua nell'aria Abbiamo perso un drone Devo recuperare armi Intanto Ci sono ancora droni? A quanto pare si Dov'è il drone? Tu puoi fare il bombardamento Perché sono qua dietro? Solleviamo Questo Fammi un bombardamento qua Tipo Questo cos'è? Un comandante schiavi No Ehm Provocano No Ehm Colpo in testa Dov'è? Attaccare Ricevuto Prendo la mira Assurgiamo tutti i droni Possibili Chi c'è ancora? Intanto io Mi prendo del caricatore Facciamo il giro Io vado In finito Eh no Ancora qualcuno? Vediamolo 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 Vediamo Ce ne sono ancora? Io credo di aver beccato bene il muton Vediamo magari di Uh c'è un altro di là Ehm Ehm Controlliamo questo Questo muton Ha ancora un sacco di energia Chiamo un drone Blobo alleato Attivare l'artiglieria Vedete chi c'è il trono Vedete chi c'è il trono Ok fuori uno Ok fuori uno Mamma mia che casino Ehm Onda psichica Qua Campo di plasma Qua Dai becca questo Quanta gente ancora Ehm Dove Finiamolo Prendo la mira Ero Richiamandone in forza Fermate quelle riparazioni Ok C'è il muton C'è l'esterno Ancora droni Eh sì Ehm Campo No Provocazione No Ehm Perché ci sono tanti comandanti L'ho ucciso Mentre mi passavo davanti Ok Ok solleviamo Fluttua nell'aria Vedete di centrarlo Puoi fare un bombardamento Sul muton Che è ancora lì Richiedi l'artiglieria Ora gli sparo Bombardamento Fermato Sto richiamando Li forzi Avete Aiuto Questi sono stanzati Basta droni Basta Blob liberato Drone alleato schierato Campo di plasma Ragazzo Campo di plasma Attivo Uff Qua fermo Ok Controllo mentale Sul muton Vai Tu fammi un colpo in testa Alla storia dell'elite E tu Alza La Anzi alza l'elite Perfetto Ci abbiamo fatta Sì Manca solo il muton Però intanto posso farmi il giro di granate Apri il nucleo di mosaico Quanta gente c'è ancora Ah Il mondo dietro di me Aiuto 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 Fatemi un bombardamento Quanti muton 8000 muton diversi Attivare l'artiglieria Bombardamento in arrivo Fluttua nell'aria Fammi anche il campo di plasma Dai di tutto Preparo un campo di plasma Un agente Blob alleato Ora l'impero Abbiamo perso un drone Ok io vado Aiuto Aiuto Barriera andata Iniziamo l'integrazione Tu non puoi farlo Ti distruggerai I morti Chiamo un drone Oh C'è un muton proprio qua Cosa devo fare adesso? Vediamolo Entra nel nucleo di mosaico Andiamo Via 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 No 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 I droni Sono decisamente utili Quei cosi sono gorazzati Area sicura Ah Origin E' la Verità Arrenditi E' la Ora E' proprio finita E poi cos'è successo? Avevamo il controllo della nave Letereo e io Potevamo avvertire tutto Nella rete di mosaico Potevo comunicare con ogni esterno Sulla terra Un potenziale Incredibile Queste creature sono venute per conquistarci Ma mosaico mi ha permesso di ragionarci Le ho convinte a ricostruire il nostro mondo in cambio della libertà Abbiamo lavorato con loro per smantellare e nascondere il possibile Abbiamo dovuto distruggere il resto Siamo riusciti a salvare una piccola parte della loro tecnologia per studiarla Le cose che potremo imparare sono incredibili E gli esterni stessi? Purtroppo, considerato quanto è successo, non abbiamo potuto offrire loro asilo Abbiamo ridato loro il comando della nave E hanno ripreso la ricerca di un nuovo mondo Una decisione discutibile Anche con gli esterni andati sono rimaste prove No, non mi piace l'inganno Ma la storia sembra aver funzionato Le zone che non abbiamo potuto nascondere sono state isolate E' stato detto che i nostri soci negli archivi nazionali Sono occupati a cancellare ogni traccia di quei luoghi Presto non ci saranno più prove dell'invasione degli esterni Nessuno saprà che abbiamo avuto contatti con una specie aliena La bugia reggerà? Non mi piace l'idea, ma sì, lo farà Chiunque possa rivelare la verità fa già parte dell'XCOM O non è più in giro E gli infetti? Dopo alcune ricerche e con l'aiuto di Mosaico Siamo riusciti a guarire l'infezione Per fortuna, al risveglio i sonnamboli non ricordavano nulla di quanto accaduto Una vera fortuna E... l'altra creatura? L'Ethereo ha interrotto il nostro legame poco dopo la partenza degli esterni Stato, posizione e intenzioni sono sconosciuti Capito, dottore Direi che è tutto per ora Come avete potuto sentire anche dalla musica finale e dalla voce Se l'avete riconosciuto, quello era il membro del consiglio che ci sarà anche in XCOM nuovo A quanto pare c'è un collegamento effettivo Che devo dire, è un gioco che mi è piaciuto molto Nonostante abbia un sacco, ma un sacco di problemi qua e là È migliorato molto secondo me nel finale Comunque la storia è un po' buona lotta Ci sono delle giustificazioni insomma un po' prese a caso Però spero vi siate divertiti con me in questo gioco In questo episodio finale che è durato molto di più del previsto Ma voglio finire col botto Infatti questo uscirà insieme all'episodio scorso nello stesso giorno direttamente E adesso vediamo cosa fare per Ho ancora un sacco di giochi tra cui scegliere Ci sarà un'altra serie che sostituirà questa nella giornaliera Spero di avere il tempo perché ho cominciato a lavorare da poco E quindi non credo di avere tantissimo tempo ancora Per tenere il palinsesto così com'è trovate sul mio canale Spero vi sia comunque piaciuto questo gioco Che dire Nel momento in cui prendete le armi al plasma Completamente viene cambiato il gioco Perché è molto molto più facile Visto che le armi al plasma fanno molti molti più danni Dal punto di vista dei bug è una critica che faccio a questo gioco Ma a molti altri giochi Anche da un certo punto di vista SimCity Ma a tanti altri Diciamo che Questo è un pochino giustificato Nel senso che C'era nell'aria di fare un XCOM successivo all'originale Che giocherò anche in uno dei prossimi Let's Play E' stato proposto Il primo che è stato proposto si chiamava semplicemente XCOM Ed era uno sparatutto in prima persona Stop La gente si è arrabbiata tantissimo Perché voleva uno strategico a turni Che è completamente diverso da uno sparatutto in prima persona Dalle loro proteste Praticamente si è generato un altro gioco Che è XCOM Enemy Unknown Che avete visto Che è molto molto simile all'originale E mi è piaciuto molto di più rispetto a questo Questo è praticamente il team Che aveva a che fare con quello sparatutto in prima persona L'ha rimodificato un po' più di volte Fino ad arrivare a questa versione qua Che è praticamente un clone di Mass Effect Clone fatto E si vede che era affazzonato Nel senso che L'hanno ricominciato Passato di team da una parte e dall'altra Ricominciato da capo più e più volte E quindi non è stato effettivamente testato al meglio E quindi per quello purtroppo La storia proprio di creazione del gioco L'ha reso molto pieno di bug E cose da risolvere Comunque spero vi sia piaciuto questo let's play A me comunque alla fine è piaciuto abbastanza Alla fine ho finito la campagna così Tutto lì Molto molto semplice E che dire Il let's play termina qua Ci saranno altri let's play appunto Andate sulla home page del mio canale E andate anche su Facebook Per seguire tutto quanto Quello che ha a che fare con il mio canale Con il mio pala in sesto E come al solito E' stato bello e impegnativo Soprattutto la missione finale Io sono Ace the Brave Namaste And be brave